Voleva trasferirsi al nord Italia insieme alla famiglia e per velocizzare il trasloco, anziché chiamare l'ASET, ha gettato i rifiuti lungo una strada comunale. Ma questa volta un uomo sulla quarantina non l'ha fatta franca, perché nel compiere il gesto illecito è stato tradito dai suoi stessi errori. Infatti nei sacchetti neri della spazzatura, abbandonati località a turno vecchio, nel comune di Fano, non c'erano soltanto bottiglie di plastica, rete ombreggiate, una tastiera musicale e oggetti vari. Ma anche documenti cartacei e delle fotografie. Grazie a questi indizi e alle testimonianze raccolte sul posto, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Cartoceto sono riusciti a risalire al responsabile. Fra l'altro, nei giorni successivi alle festività dei Santi, anche alla nostra redazione erano giunte segnalazioni da parte dei nostri telespettatori, tant'è che avevamo inserito la notizia sull'abbandono di questi rifiuti all'interno del nostro telegiornale. Una volta accertata l'identità dell'uomo, non è stato semplice rintracciarlo, perché si era già trasferito e non erano ancora stati aggiornati i documenti con il cambio di residenza. Una volta conclusa l'attività d'indagine, al quarantenne è stata elevata una sanzione che va dai 300 ai 3.000 euro. Intanto, per contrastare questo fenomeno, proseguono i controlli da parte del Corpo Forestale nelle aree della bassa valle del fiume Metaure e del Cesano. Controlli che avvengono anche in collaborazione con l'ARPAM e la Polizia Stradale. Gli agenti ricordano che l'abbandono di rifiuti, in alcuni casi, prevede multe ben più salate e addirittura, se si tratta di oggetti o sostanze che possono inquinare l'ambiente, è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria. Vi ricordiamo inoltre che Aset Spa ritira i rifiuti direttamente nelle abitazioni e in modo del tutto gratuito se non sono superiori a due metri cubi. Mentre ora, a causa del comportamento scorretto di questa persona, la rimozione avrà un costo aggiuntivo per il comune e di conseguenza per tutti i cittadini.